Spesso mentre lavoro alla vanilla mi ritrovo a dover utilizzare le famosissime Elytra E voi direte qual è il problema? Il problema è che i reazzetti continuano a finirmi Quindi è veramente snervante dover aspettare la notte per trovare altri mob oschili Come vedete ho pochissima polvere da sparo e la utilizzo sempre Quindi mi son detto perché oggi non costruiamo una volta per tutto una farm di mostri? Abbiamo la farm di cibo infinito nel nether, abbiamo esperienza infinita e gli oggetti commanding Perché no facciamo una farm di mostri così abbiamo tutto infinito e non abbiamo più problemi di sorta Se ve lo state chiedendo è un nuovo meccanismo che ho creato per evitare di fare entrare i mob Non è ancora finito, non mi piace molto Però boh è decente, un po' strano ma l'importante è che funzioni Comunque ci lavorerò un altro po' off camera Detto questo ero indeciso se costruirla qui Dove off camera vedete ho modellato un pochettino il terreno Ho creato questa base Però qui in realtà avrei voluto costruire un faro Faro che abbia lo stesso stile della mia casa Quindi immaginate qui un faro e un giorno ci metteremo anche il beacon verde Che qui dobbiamo continuare ovviamente il porto, il molo Fino a lì sotto e qui dobbiamo continuarlo qui Ovviamente metteremo altre barche eccetera eccetera Vedete sto iniziando a spammare il bom meal anche lì Devo ancora finire? Ma col tempo ce la faremo dai Però sono più propenso a lasciare questo punto per il faro Quindi direi di andare da un'altra parte Ho solamente 16 razzetti quindi vediamo di non sprecarli Vedete che vi dico? Io vi direi qui, secondo me qui a posto di quest'albero ci potrebbe stare Anche perché poi ovviamente la farm la copriremo con una specie di palazzo come quello lì Faremo ovviamente tutto il fumo cache come se fosse una specie di industria Intanto abbattiamo quest'albero Vi dirò forse l'albero ci serviva perché dovevamo farla in altezza per evitare che spawnassero mob sotto E rip, quel che è fatto è fatto Adesso prendo un attimo i materiali che mi servono e quindi andiamo a costruire questa benedettissima farm Devo anche fare un episodio in cui illumino sta cavolo di casa perché non è possibile Allora ovviamente non sto nemmeno a specificarlo Non possiamo farla troppo in basso perché spawnerebbero i mob qui sotto Renderebbero meno efficiente la farm automatica di mob Quindi dobbiamo salire di un po' Ti direi di metterci qui dove c'è questo laghetto Di salire di qualche blocco Il problema è che ci sono gli alberi Però se non sbaglio sulle foglie non dovrebbero spawnare mob Quindi dobbiamo salire di... Boh, butta 30-40 blocchi Perfetto, allora dovremmo essere ad una buona altezza Forse ci conviene anche scendere di qualche blocco Non lo so, 5 blocchi Che ho alzato di un bel po' all'inizio Quindi lo so, tiè, levagli 5 blocchi Allora ci tengo a precisare due cosine Uno che è appena arrivata la notte quindi devo andare a dormire Due che questa farm sfrutta il metodo tradizionale Di quel quadratone gigante di cobblestone in cui ci sono i mob che spawnano Vanno sulle trapdoor vuote e volano di sotto Però sfrutterà un meccanismo di redstone Che farà in modo che a intervalli irregolari L'acqua verrà accesa e spenta Per prima for spawnare i mob Poi viene accesa l'acqua Vengono spinti di sotto E poi si rispegne e è così all'infinito Questo renderà la farm molto più efficiente Soprattutto più funzionante Visto che adesso i mob sono stati aggiornati Sono molto più intelligenti Quindi la vecchia farm non avrebbe funzionato così bene come immaginiamo Ora mi sono segnato un attimo il blocco centrale con un pezzo di legno Ho fatto due anelli di cobblestone Adesso dovremmo uscire sette da ogni lato se non sbaglio E adesso dobbiamo semplicemente chiudere questo gigantesco quadrato E devo andare a prendere altra cobblestone ovviamente Però fortunatamente quella lì è l'unica cosa che non manca quindi dai Oh guarda quant'è estetica avere questa roba in cielo così a caso di cobblestone Sembra tipo quelle basi sui server fazioni per evitare di essere griffati E ti costruisci la base 100 blocchi d'altezza Allora il prossimo passaggio è abbastanza importante Ovviamente prendete dal centro Andate avanti per i sette blocchi iniziali Arrivate qui e dovete mettere 5 blocchi Ok? Successivamente lo fate da ogni lato E poi collegate tutte le varie estremità con dei blocchi diagonali Vedete che vanno ad unire perfettamente Vari lati Vi state chiedendo a che cosa serve Lo capirete dopo Serve semplicemente perché l'acqua non arriva da lì fino a lì Fai in modo che scenda di un blocco così che possa arrivarci Tutto questo riprendiamo la cobblestone Utilizzate il legno verde semplicemente per farvi vedere i contorni E dobbiamo trasformare tutto questo così Ok fatto questo dovrebbe venire un risultato del genere Adesso tolgo tutta la legna verde perché era semplicemente per delimitare i contorni Comunque per il prossimo passaggio ci servirà il blocco centrale Quindi ho fatto bene a farvelo segnare Nel mio caso è questo qui Dobbiamo salire di 3 blocchi e poi creare un'altra piattaforma con l'hub di cobblestone Dobbiamo fare una roba del genere e dobbiamo ricreare un'altra piattaforma Come nel primo passaggio dobbiamo fare 7 ogni lato Ok e poi bisogna unire tutti i lati come abbiamo fatto prima per questo Qui adesso ci serviranno un observer e un dispenser Questo semplicemente serve per creare quel meccanismo di cui vi ho parlato prima Che l'acqua viene attivata e spenta ad intervalli regolari per far spawnare i mob E rendere la mob farm molto più efficace Qui nel blocco centrale che mi ero segnato Qui così e poi ci va questo qui Ti è perfetto Ok adesso mentre arriva di nuovo la notte Quindi potete immaginare quanto tempo sta passando Dobbiamo andare qui Dobbiamo creare una piattaforma A volte è abbastanza semplice perché dobbiamo ricoprire tutto quello che vediamo sotto Semplicemente se sotto c'è un blocco Dobbiamo coprirlo Dobbiamo creare un moto gigantesco che copra tutto Allora ho craftato i restanti repeater Adesso ne ho 17 E un comparatore di redstone Dovrebbero in teoria bastare Perché qui adesso dobbiamo creare un clock Penso che la direzione non cambi Quindi uno qui sopra Deve essere tipo così Però non mi sono bastati Che bello Il momento della verità Basteranno? Sì me ne avanzano anche due Perfetto Quello che stiamo per creare Non è altro che roba del genere Ma molto 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 più lenta Nel caso utilizzeremo il comparatore Che funziona in questo modo Se non sbaglio Vedete? Lo dobbiamo mettere qui Ah giusto Qui Perfetto Ho preparato una leva Perché viene meglio ad attivare A spegnere completamente il meccanismo Allora controllate Dobbiamo metterli tutti al massimo Quindi vai così Non di non sbagliare Perché sicuramente sbaglierò Metterò un click in più su uno E tipo romperò tutto Vedete che è molto molto più lento In questo frangente di tempo Stanno spawnando i mob Quando sentirete l'observer Esatto In questo momento Sarà stata attivata l'acqua Che avrà spinto i mob Nella trappola Per fargli droppare i loot Mettiamo il secchiello d'acqua qui Chiudiamo qui E adesso Ovviamente Per fare in modo che Spawni i mob Dobbiamo chiudere Tutta l'intera farm Per questo Mi sono portato Della blackstone Perché voglio appunto Farla per bene Per poi renderla Una specie di palazzo gigante Ovviamente Dobbiamo rompere Sì ne siamo sicuri Che bello avere l'elita Dovrei anche avere i cartelli Adesso qui devo fare Tutto il contorno Diciamo che ancora Non fa proprio un bel effetto Però E dovrebbe arrivare Fino in basso Sarà una bella tryhardata Però lo devo fare Capito che funzioni Basta vai via Dovrebbe essere Questo di qui Perfetto Qui devo riempire i secchi Però verrebbero spinti qui Quindi dobbiamo fare Così Dovremmo aver finito In teoria Dobbiamo riempire tutta questa striscia Vero? Prendo l'acqua E lo finisco Vedete come funziona Se vedete che manca qui Non lo so Vedete manca qui Dovete fare così Perfetto Vedete I mob direttamente Verranno spinti Fino a cadere qui di sotto Dovremmo creare una piattaforma Di atterraggio E oddio no Ma cadono direttamente qui Un attimo chiudere quest'acqua Perché se no Mi cadono i mob qui E mi rimangono vivi Nell'acqua Fermo Ok adesso Come ultima cosa Devo attivare Il meccanismo Lei vada via Ah giusto Qui sopra lo dobbiamo tutto illuminare E attivare questo Questo dovrebbe far funzionare la farm Se abbiamo fatto tutto correttamente Ovviamente Quindi vediamo Andiamo a vedere se funziona Non sono stato FK così tanto 3 secondi Perfetto direi Ci sono un botto di drop Oh vedi Mi sono già fatto mezzo stack di razzetti Camera costruirò Questo cavolo di palazzo Posso farlo in questo momento Non ho proprio il tempo Detto questo Nulla La farm funziona Potete aggiungere tranquillamente Degli hopper lì sotto Con delle ceste Per raccogliere i drop Pfff Grazie.